Ciao a tutti signori, componenti di questo bellissimo gruppo, sono Ivo Manzoni, la testa matta che ha deciso di fondare questo gruppo, era qualche giorno che volevo scrivergli un messaggio però non sapevo in che modo scriverlo e allora alla fine ha deciso di registrarmi, vado senza nessun foglio da leggere, vado giù libero, allora volevo dirvi, ultimamente abbiamo dovuto eliminare alcuni componenti di questo gruppo perché erano nate delle discussioni che non ci piacevano e quindi mi rendo conto che abbiamo anche dovuto esagerare un pochino in questo chiamiamolo regolisti perché la situazione ci stava un attimo sfuggendo di me, quindi abbiamo eliminato un po' di gente, sicuramente abbiamo eliminato anche qualcuno di troppo, quindi volevo chiedermi per favore se qualcuno di voi conosce qualche suo amico che faceva parte di questo gruppo ma è stato messo all'angolo erroneamente scriveteci in privato a noi admin oppure anche sull'indirizzo email che ha pubblicato sull'intestazione del gruppo che si chiama pets a a v chiocciola gmail.com ossia pets traduzioni animali di compagnia all around the world quindi pets a a v chiocciola gmail.com scriveteci lì o contattateci un po' di privato spiegateci qual è il vostro amico che abbiamo eliminato per sbaglio e paruteremo loro lì e metteremo chiedendo anche scuse un'altra cosa che volevo dirvi è mi è capitato di vedere in un altro gruppo pubblicate foto prese dal nostro gruppo non voglio fare nomi però foto prese dal nostro gruppo per dipingerci male per non usare altri termini allora oggi guarda caso siccome lavoro in un chiamiamolo più importante gruppo bancario mi occupo di informatica mi hanno iscritto a un corso di sicurezza e guarda caso mi hanno spiegato che pure un reato prendere le foto di qualcuno usarle altrove creato che può finire nel penale non mi interessa che ho usato la nostra foto altrove non vogliamo perdere tempo in queste cose ma vi chiedo corteggiamente di non fare altrettanto di non prendere una foto da un altro gruppo o portarla nel nostro per dire guardate questi qui come lavorano male non ce ne frega niente a noi ci piace a noi piace a noi ci piace forse non ci dice a noi piace condividere l'amore per i nostri pelosi e basta non ci interessa parlare male degli altri punto continuate a pubblicare le vostre foto dei vostri pelosi continuiamo a condividere il nostro amore per i nostri pelosi e fermiamoci lì se vi capita di vedere altre discussioni che cominciano ad andare via per la tangente per favore evitate di parteciparvi lasciate cadere la cosa perché non è questo lo spirito del nostro vero vi ringrazio a tutti Viva Manzoni e gli altri miei coadmin Raffaella Bozio Stefano Barancini e Alessandra Bellotti che è anche mia moglie ovviamente vi ringrazio di cuore per far parte di questo gruppo vi ringrazio di cuore per aver perso quasi 4 minuti ad ascoltare questo video messaggio e vi abbraccio tutti quanti scusate per questa maniata arancione ma ci avevo questa questa sera quindi video messaggio fino a così grazie a tutti mi raccomando se qualche vostro amico è stato messo all'angolo erroneamente fatecelo sapere lo reintegreremo volentieri chiedendo scusa anche in ginocchio però in quel momento c'era un po troppo casino in giro e abbiamo dovuto agire un po di fretta quindi sicuramente qualche errore è scappato grazie a tutti un abbraccio e buon fine settimana a tutti da me e in particolare dai miei cinque prossimi Ricchi, Carlotta, Mafalda, Murigno, Telive che ormai conoscete benissimo ciao a tutti un bacione ciao ciao